Evviva Berlusconi, Evviva Berlusconi, Evviva Berlusconi, Evviva Mediaset, Evviva Mediaset, Evviva Mediaset, Evviva Mediaset, e Berlusconi ha creato tutto noi. Oh mamma, me faccio il corassone, me lo faccio con Berlusconi, Berlusconi io. Berlusconi io volevo un papà come Berlusconi, senza offesa per mio padre, però ho un'ammirazione per gli imprenditori, quelli che creano posti di lavoro, che danno da mangiare alla gente, non gli operari con la bandiera russa. Il sindacato vuole andare a comandare a casa mia, ho creato io Berlusconi, a casa mia comando io, Berlusconi come l'amma di son pace, il passo è lì, perché lui non ha creato niente nella vita. Berlusconi, vai buongiorno, ha preso pezzi di 90, ha investito bene, perché quando aveva tirato il milanese, non era solo granché, quello faceva, aveva tirato, ha creato, allora mi sembra Finivest, se non sbaglio i tempi, è partito con la Finivest, è lì che dopo è partito, ha preso i pezzi di 90, ha dato concorrenza alla Laich, non so che altro dirvi.